Ciao, potete che ne scelchi? Siamo a selfie? Siamo un autoscatto infinito Vai! Ciao Mette! Sì, chiedi su a reti Dai, dai, arrivati! Il saluto della mattina Il saluto della mattina Il saluto della mattina Ma cosa mi si fatica a te? Non è che si muove Benvenuti amici, dai, dai Qui con voi Capes, il buon Mirkez alla guida Con il Lemmi e il buon Riccio San Qui ci sono le croci Parico paura Oggi è il 16 marzo 2014 E dove stiamo andando, buon Riccio? Stiamo andando a Udine Il posto, non so Il racchiuso Il colveriere di racchiuso Il colveriere di racchiuso Per partecipare a un torneo Che è Fucking apocalypse Fucking apocalypse Stimato, arriveremo praticamente in ritardo Come il nostro solito Perché siamo partiti un po' tardi Le tempistiche, guarda E' quello che si è Un po' di No, perché avevamo detto giustamente Dai, dai, abbiamo detto questa volta ci organizziamo Andiamo a letto tutti presto Era alle ore 11, vado a sentire la Chiara Bevo un tè Perché Chiara abbiamo promesso che andiamo E dopo io prendo la macchina e torno a casa Ma che ora? Ma che ora hai attaccato? Non so, un rato però Mi ha detto presto Andiamo a mattina alle ore 6 Invece È andata così perché il sabato Ringraziamo sponsor Teo Maschè E tutto il gruppo che ci sostiene Grande staff Grande staff Che ci fa bere prima dei tornei Grazie Per essere belli carichi Dai, dai Con noi Noi siamo in camioncino In macchina dietro Il buon Pinti Che tutti ricordano Sandro e Luca E altri due operatori Wolf e Tex Già partiti Operativi Già operativi Gli operatori Da ieri Buon pomeriggio Numero 1 Sono andati a prendere il posto in capo E domani 5 al posto Ci aspettano lì per le 9 Ma arriveremo sicuramente alle 10 Con inizio in grado Con inizio in grado alle 10 e mezza Per cui non che mancanza il tempo Dai che andone Avendo dormito un'ora e 10 minuti E' una buona partenza Che sta che sta Se ci rivediamo in campo Sulle mani di Pinti Dai 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 Pinti C'è contro C'è contro Sì ragazzi Ci deve essere radio tiraga e nevi sil Bisogna andare a ciapparlo Dai Rizzo passa in PB1 canale e contatta il sil Mi raccomando gente bisogna assolutamente salvare il tizio Non preoccupiamoci del resto dai Vai su va su dai Squadra bravo con me Squadra bravo con me Squadra bravo con me zosta vendaria C'è controlla iscri sale , wolf wolf il seal come gioccia fa facciamoci 360 sul seal dai 360 sul seal vengo arrivati l'obiettivo per il 2 copertura ragazzi grazie dai che andiamo bisogna farti sfilterare copritemi dai ragazzi dai ragazzi spalare eliminiamo tutti eliminare eliminare guardi siamo qua tex qualsiasi è la situazione una destra la bandiera guardi colpio e mossandro non metti larghi larghi dai ok temelo dai diamo devo eliminarli tutti c'avevo più punti dai due sono fuori che altro uno allora questo è l'obiettivo a tutta la squadra avvicinare il casolare e raggirarlo conquistiamolo muoversi muoversi riccio con me riccio non avere paura andare 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 è un caseggiato dobbiamo prendere un zaino e trovare dentro le foto e fotografarle prendetene il possesso prendetene il possesso controllate tutto intorno fare perimetro fare perimetro ci sarà sicuramente qualcuno lo abbiamo trovato sandri fammi con la tua squadra un perimetro difensivo wolf vai con sandri tanta degnata che effetti che è diverso ci sarà ilного avvicinare è molto ausente ok ti presi firmi anche a tutta la squadra l'obiettivo preso via 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 te ciappi lori, te ti sposti sull'altro lato della strada e ti hai messo il posto Pitti, Luca, Wolf siete con me, noi facciamo il primo gruppo di fuoco contro una battuglia che si avvicina Appena parte l'ingaggio noi attacchiamo come viene, state nascosti adesso, prendete una buona posizione Avanti, avanti, avanti C'è Kino? A posto? Come andare avanti Pitti Qua è la mia sinistra Pitti Possiamo di fare un cazzo qua, questi qua si stanno a eliminare, punti punti Ok facciamo un perimetro intorno alla struttura Vai 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 Si, controlla la mia strada qua a sinistra Pitti Tutta la squadra intorno al casolare, tutta la squadra, entriamo dentro, andiamo a vedere Vai Luca vai Luca Dai Wolf dai Wolf, Wolf e Luca dentro 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 Allargatevi Scouts Riccio, l'ha colpiti Via Luca Sandro, Riccio, via Dadea Poco amico, occhio qua Via Sandro Pitti colpito Cazzo ci dobbiamo farla Aspetta un'altra La hai aperta a tutti fino ad adesso Dai spot PC, Luca con L grande Dai E ora Qui qua, l'attivo No Dai scrivi L U C A Sì Esta un'altra Poco è il bumbi A ver Alla P Child Pagk 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 D'U Grazie. 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 pack dai 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 luca vacciapallo luca è tuo vai pitti dai che copertura riccio va me sotto muro va me sotto muro avanza va sotto muro luca 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 dai riccio coprimi riccio riccio coprimi luca e ora l'uomo ciappa a posto a posto avanti avanti da qua avanti da qua dai ricomporso subito riccio situation dai avviciniamoci occhi ai piedi riccio via 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 di situazione e ora io ho visto qualcosa non so da dove tira luca siamo su metti colpito 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 fuoco fuoco dai cambio ok 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 è morto fine 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 no no fine grazie fine qua è finire andiamo andiamo ok entri a partia sono già che sei dentro qua che sei dentro Mirko libero 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 bravi bravi ragazzi dovete slargarvi e andare avanti si fermi a sbalzi a sbalzi dove sei io? dove sei io Sandro? guarda avanti l'abec adesso vedo vedo come ho un problema voglio metà il cavo a sbalzare stiamo fermando bravi bravi ehi io avanti tutta la linea di fuoco avanti pitti vieni pivanti pitti 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 vieni vatti e ora ragazzi dai 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 allora muoversi 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 uno dietro l'altro dai mirko prendi quelli che hai tutti attenzione occhio occhio se c'è ancora qualcuno è stato preso arrivo continua a martellarlo pitti bene grazie grazie vai 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 text vai 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 text vai text vai text avanti vai sandro vai sandro gli altri controllare controllare dai far perimetro andiamo su andiamo su colpio colpio vabbè valla con i colpiti mi sarà un altro ragazzi occio controllare è stato preso è stato preso viene un altro ora occhio sì sì tec sì Terry sì Terry preso preso due sta colpito qua un altro qua uno due tre tre qua cinque dai sandro andiamo dai sandro 3,60 intorno ragazzi 3,60 cazzo sei qua qua sandro qua te l'avevi perso in mezzo al coso non so se si è in video in video si è in video fa più lontà data facendo due tre andiamo andiamo se mi sa ando vai 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 dentro dai non sei si siamo massi a tacaima se siamo rapidi ci allarghiamo tutto intorno qua sta in strada riccio a me su qua tutta la squadra fateci copertura tutta la squadra fateci copertura colpito dai faccio un cosa un 360 faccio un 360 faccio un 360 faccio un 360 in questo punto allora 2,44 ok avete accertato che è morto no si colpa della testa ha fatto una foto fai una foto fai una foto perchè siamo entri dai 10 metri scusami 2 eh 2,44 ok 200 punti mi ha fatto una foto con il morto mi ha fatto una foto con il morto